Nell'imprenditoria come nell'arte, avere una visione, riuscire a vedere quello che negli altri invisibili è certamente quello che fa la differenza, quello che riesce a promuovere dei progetti che altrimenti non esisterebbero, quello che riesce a coinvolgere le persone che ti sono accanto e quello che riesce a valorizzare tra le persone, nella città in cui vivi, nel tuo quartiere, nella tua azienda, punti di vista diversi. Nel progetto Made in Cloister l'invisibilità è stato proprio il punto di partenza della fondazione. Quando io la prima volta sono arrivata qui era un luogo abbandonato da 100 anni, un chiosso del Cinquecento trasformato in un garage, c'erano bagni abusivi, c'era il totale degrado, eppure noi abbiamo visto un posto meraviglioso, quindi dove gli altri vedevano degrado noi vedevamo bellezza e così la stessa cosa vale per il quartiere, un quartiere multietnico, certamente dove c'è una forte illegalità, però noi vedevamo un'umanità ricca e con grande potenzialità, quindi l'invisibile o meglio quello che gli altri non vedevano per la fondazione Made in Cloister è stato il punto di partenza. Ho avuto spesso l'esigenza di dare forma all'invisibile, mai come nel progetto Made in Cloister ho avuto questa esigenza, perché dovevamo coinvolgere persone intorno a qualcosa che riuscivamo a vedere solo noi. Come ci siamo riusciti? Ci siamo riusciti grazie al supporto degli artisti, perché gli artisti spesso hanno quella marcia in più, hanno la visione che ti consentono di disvelare l'invisibile e ci siamo riusciti grazie a una fortissima passione e determinazione. L'invisibile è quello che non si vede per definizione, ma non è quello che non esiste. L'invisibile è quello che c'è che non si vede o anche sono stati danno, ma in entrambi i casi, in qualunque modo si vuol considerare l'invisibile ha un impatto sulla realtà, quindi è fondamentale riuscire a dare una forma. Esiste la via dell'invisibile, la via dell'invisibile è riuscire a guardare con occhi diversi e dire anche con il cuore le cose che abbiamo davanti tutti i giorni, le persone che abbiamo attorno e il mondo che ci circondi. Questo ci dà la grande opportunità di vedere cose che a una prima vista superficiale non riusciamo a percepire. Tre parole per definire il premio Driving Energy sono inclusività, innovazione e autorevolezza. Il mio consiglio è di partecipare, perché il premio Driving Energy è una grande opportunità, un'opportunità di visibilità, un'opportunità di confrontarsi con un tema molto bello, quindi partecipate.